Cena di San Valentino al bel sito Telle Due Torri, info e prenotazioni 0825 67 00 01 Era attesa una schiarita sulla questione rifiuti, in provincia infatti si è tenuto un vertice alla presenza del presidente Gambacorta, il sindaco di Serino, della Defiam, di alcuni dipendenti e la Devizia e dell'amministratore di Irpini Ambiente Nicola Boccalone. Al termine del summit però il manager dell'azienda incaricata alla raccolta dei rifiuti ha eluso la folta schiera dei giornalisti pronti a raccogliere le sue dichiarazioni per cercare di fare chiarezza prendendo un'uscita laterale del palazzo della provincia. Boccalone dopo un breve inseguimento è stato raggiunto alla stampa ma è scappato a bordo di un'auto dell'Aer insieme allo stesso Costantino Preziosi e manager dell'azienda dei trasporti. La fuga di Boccalone e il diniego da rilasciare le dichiarazioni non fa presagire nulla di buono. Anche il presidente della provincia Gambacorta e il sindaco di Serino a colloquio con la Defiam hanno deciso di non rilasciare dichiarazioni. Prima lumori comunque siano palesati già prima del summit quando Filomeno De Feo, titolare della Defiam, ditta inizialmente indicata per sostituire temporaneamente il Pini Ambiente e la raccolta, è stato chiaro e perentorio. Non metteremo a disposizione il nostro deposito. A novembre, quando scadeva la prima proroga della provincia per l'utilizzo dello stir, volevamo dare una mano. Ma non è stata trovata l'intesa. Oggi non possiamo aiutare. Abbiamo già il nostro carico di lavoro e temiamo l'eventuale impatto ambientale sul territorio. Ieri la comunità era già stata allertata. Visibilmente a contrariato si era mostrato, prima il summit, anche il sindaco di Serino Vito Pelosi, comune nel quale agisce la ditta privata Defiam, che come detto ha fatto un passo indietro. Non ho nessuna disponibilità al sindaco per quanto riguarda l'onore di chiesa. Se conò quindi al comune di Serino e dalla Defiam, la patata bollente potrebbe passare nelle mani di una nuova ditta privata, ma senza dichiarazioni ufficiali e difficili poter avere una schiarita sulla questione. Rifiuti.